musica 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 ciao a tutti e ben tornati aaaah è partita? si fuori hanno modificato corso alle armi che spiego ma che è quei minini rossi intorno alla gente ragazzi sto pia in botte non dico che io gioco a questi giochi che io non so giocare no io con cortello ma dove non andavo con cortello uuuu double headshot bc siiii eh vabbè infamia attenti vabbè non ti sento focus no no sto facendo headshot siii festa estrema allora facciamo così parlo parlo bubù ciao a tutti siiii comunque io ho già startato il rack se lo vedete bene cosa? sono un pro pro proso io io ho già startato il rack ah hai già startato? siiii che voglio ecco sto morto come un cane eeeh guarda questo che arma figa bella proprio bella mi piace che cazzo è sto coso intorno a me non c'è più vabbè vai ma guarda che arma figa non vale un baggone no vabbè dai hanno modificato sto cazzo di gioco di merda porca troia che odio cioè che hanno fatto ci? hanno modificato hanno modificato tutto bella arma che c'hai come? ma che c'hai su mio cosa? come c'è quella bellissima arma? la droppai? la droppai da chi? da qualcuno? ah sono in una partita ah eh vabbè non vale tu sei l'infame ragazzi questo gioco ha portato alla violenza beh voi non... voi non ci credete? ma quando mai? ma sei un bucciaro non porta la violenza questo gioco no no ti è bucciaro dai che abbannarlo eh ciao perchè ho sto coso rosso? non voglio avere il coso rossetto a me gli occhi annaccia perchè? perchè a me? no non ho capito che serve quel coso rosso infatti e che a me me lo dà e come ti dà come se ti segna eh sì no dà la vita dice la vita mi pare no no è 100% la vita nooo ho messo il B ho messo il colpo in 3 ho messo il colpo in 3 ho messo il colpo a 3 perchè come si fa a levare il colpo a 3 ragazzi? ehm un tasso destro forse 3 raffiche 3 raffiche automatico guarda non muore porca troia ero io devi morire intanto col cerchino quando vai al fratto uuuh che c'avevi? uscire a pompu oh pompuzza ma ora devi fare 2 kill muorici infatti ma ogni arma 2 kill devi fare uno vabbè ma ti è morto ci? ah ti è morto? no grazie non ti sto sparando no no grande andre mi è piaciuto proprio andre non puoi capire mi aspettavo proprio un cecchino in faccia mi ha fatto pure male vabbè quello m'ha ammazzo cosa? una cecchina da in faccia mi hai fatto arrivare eh già ti sto shotando il cecchino ti sto non ti sto shotando il cecchino non ti sto shotando il cecchino mi hai lasciato 3 volte qui va bene eh vabbè non muore un colpo fa fatto 104 ragazzi va bene sto dominando tante persone poi loro eh ma come fanno a spararmi da muro? ma che stiamo a scherzà? è bella l'hai vista l'avatar del seconde in classifica? no è il tuo? i love your mom si chiama i love? i love your mom becca è una persona carina dai andre quanto sei rimasto? vabbè 60 sono fatto poco buono buono bravo bel game nice si vabbè questo qua l'ho colpito 3 volte e non muori perchè non muori? gioco di merda bella c'è un'arma molto bella non so che cosa sia ma tu sei tu? Andrew ma io ti vedo rosso ma perchè? non lo so non l'ho capito perchè cioè io so dove stai ma può essere? ah io sono il team leader ecco perchè è per quello dici? il team leader? no adesso sei il team leader prima non lo eri ho capito vedi tu ti vedo? e se no non sapevo dove spararti capito? 2k io ho arti e vai un team leader e quello oh non credo che piace questa cosa oh c'ho il vino figo ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto grande bella partita vediamo che ho fatto ho fatto schifo ho diventato tipo tanto secondo? buono? secondo ultimo vabbè dai secondo ultimo vabbè dai succede che è il safari? Safe House, qual'è? E non si dice maiare E come si parla? Come si chiama? Cosa? Come si parla? Come si parla? Come si parla? Come si parla? Andrew, come si parla? Non lo so che c'è, io ho la K E' la principale? Non lo so, premi la K Eh, aspetta, aspetta, adesso non posso per là Vada Vada Dai Starta stamattina Scusate di sbatto Ma comunque ci sono fatti capelli fighissimi di vedere sul prossimo video Vada, vada, vada Vada, vada, vada Vada, 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 vada Annaccio a babbino No, è pieno Mossa, mossa Damo, sei una mossa Konga Konga Grandi Vieni su tiassi di Luke Io faccio spam Spammer Spammer Lui è lo spammer No, ma... Grande giro Hai sette fuego No, ma che è cominciata la partita? Vabbè, vabbè Non ti sto Non stavo camperando, te lo giuro Mossa Mossa Damo, sei una mossa Oh, hai avuto degli italiani È bellissimo Che va sta porta? Che porta non servono, ragazzi? Che sembrano le porte? Niente Che cosa è? Ma... Ma ho trapurato, ma ho trapurato Nooo No, Andriu, quanti cavoli colpici avevi dentro a quell'arma del cavolo Oh, l'ho preso in volo Yeee, per se stai, ho vedo Andriu, vedo Andriu Andriu, vedo Andriu Andriu, a moriti Andriu, a moriti No, Andriu Perchè ti vedo You can see me Ec 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 Ec, sono morto Ma mi spieghi perchè ti vedo, me lo spieghi? Non lo so, non lo so Ecco, grazie Ecco, grazie No, dai Madò Nice shot G, G, aiuto, aiuto, aiuto Ragazzi, giocare Di bambini che giocherà a questo gioco, oh my god Cioè, giocare a questo gioco è una cosa etica, ragazzi Ho sentito quando incontri di persone italiane E' veramente etico Oh, non mi aspettavo Oddio, guarda quello Mori, 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 mori Mori Oddio, oddio, oddio Ha legato tutto Ok, ha aggiunto il nuovo livello 2 su 16 Ok, finirò domani Grazie Grazie Ah, forse perchè era il primo No Andriu, non muore Vabbè, ho fatto un colopo a 18 Oh, zero Facciamo schifoci Ma quanto, non muori Ah, muore un altro Muore un altro rosso Si Ecco Non sono più io E' vero E' vero No, no, sei tu, sei tu Sei tu, sei tu, un altro lato Un modo vedo Impossibile Stava bene a prendere Vabbè, questi mi spawnano Non faccia Ben 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 Quattro colpi e 84 non è morto Yeah Nooo, quanto questo ان è morto c'è il fucilotto signore beh vabbè guarda quello con il fucile a pompa in chilometro me le... non me le hanno stillato va bene comunque sta a sparerci un kill non vale? no noi noi guarda questo! madonna che paura porca cazzozza è lezzo proprio è lezzo? proprio lezzi cazzo ma c'è male l'aveva visto lezzi proprio, è lezzo addio ma ma c'è stato 5 volte t'ho visto la gara e poi sono morto sul video si vedrà che avete bacchiato sono cittoni, sono cittoni non muori, va bene non muori che schifo madonna questo star kill è primo e secondo per cambera per cambera pure russi e pure siciliani oh ciao oddio che paura va bene non marite ok va bene voglio camberare qui voglio proprio camberare qui prima che entro sotto ho visto andrew andrew vieni guccioli panda non ci sono t'ho visto invece t'ho visto t'ho visto scappa scappa andrew non ci sono più non sono i Harry primo è star kill non è lui no è morto no me l'hanno killato perchè mi fanno queste cose tutte ehhh mi piace stare su una scala oh oh l'hanno killato no l'amore l'amore ti piace morire? ti piace morire? ti piace morire ecco 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 ecoco ecco ecco io non ce l'ho faccio ecco 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 usciti ma ma il pd il pd che sta soltanto a camperare nella sopa qualcuno sta camperando e sta nelle serie come i cani esattamente perchè questo è un gioco di cacca ci muore brutale oddio sta cosa su BAM nooo bel colpo mi segnala sta merda di gioco non dimmi nemmeno come ho fatto non mi chiedere come ho fatto vabbè oddio quello è volato brutto raga ha fatto un muro che ha petto danni dai vabbè no dai Andrew si eri mio e mo sei mio però mo ce muori no vabbè non ce muori lui lui è pupì no no non mi fa bene ecco qua nooo gg gg a tutti ha visto la magia la magia bella partita vabbè vabbè dai facciamocene un'altra vabbè 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 dai so più pro io so più figo io vuole un altro qualche bella speranza fighissimo brucia va ma pensa a bruciare ahahahahahahah brucia fuoco brucia brucia fuoco brucia brucia fuoco brucia brucia tutto brucia pronto pronto si si dai un'altra volta con lui un'altra volta c'è terrorista vabbè e io ero terrorista infatti e ora è pure piena comunque è a me che ti no è anticarorista vuoi ma è già figlia sono monella non ci viene al nostro spawn per ucciderci luggia monella monella sei un monella 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 pusciate cazzo pusciate monella no vabbè monella sei una monella eee monella monella ci vuoi vero visto monella non ci accoltellano le persone eheh 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 e chissà chi è stato ad accoltellarti boh la brucia pure tu va no no fa forse brucia solo io ma no ragazzi il counter ma giù ragazzi le è unizioni che è un suonista che lingua era esattamente non lo so non lo so non lo so questa qua è la mia singola voce c'è ma posso c'è ma posso ma posso io fare 3 in 1 col pipì bison in faccia boh che ti guarda che schifo ecco ora che ho fatto 93 eheh 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 ah oh mio dio ci prendono le pizze siiii vabbè quello non ci muore raga 27 in un colpo io ho fatto niente no grazie ma 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 che c***o non muore non muore tonizzato tonizzato non muore che merda porca troia ti ricordo sempre che sto reccando io eh ricordate cosa cosa eheh io sto sempre reccando ricordati eheh ecco qui sotto mi spara in faccia ma che camper è meraviglioso meraviglioso madanissimo eheh questo mi dispara in faccia vabbè grazie eh io c***o ma che camper ma che camper no io non c***o camper oh non muore c***o non muori non muori ce l'avevo 8 HP tipo arrivi tu in prezzo aeree il vito italiano guarda porca troia che odio vabbè 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 l'avete visto? spazio per treone eh e wow washout ma che merda è fattile che c***o eheh vabbè questo ce lo sapeva dove stavo eheh star kid e sta città g eheh guarda per calzare qua questo che è nulla che c***o camperate poca troppo vostro spawn è noi camperiamo c***o ma oggi ci si ficca di dentro il nostro spawn nooo ma cosa dite mai va bene va bene eheh ci avevo un HP deciso ragazzi oggi vedrete come sta scledando Andrew mi piace come scledando Andrew ma che camper ma che camper e come io sono appena entrato non so Oscar eheh no vabbè shot me con fuci a pompa e si Fabio Scopino mi ha shottato ragazzi no è il bello che tu mi fai 99 poi arriva il figo e mi fa 1 hai capito che merda il gioco di strada cioè ma almeno l'assist vale essere 6 kg si va bene mi rubano anche le kill grazie va bene grazie va bene grazie come sto incazzato in passapita grazie va bene ma che scelta la gamma che ho fatto bene per colpo va bene ho fatto 1 shot raga si si da dietro grazie si da dietro grazie dietro grazie però c'è male no eh? però c'è male no eh? però c'è male no eh? ma quanti cazzo ha nei piedi cazzo? mi ricordo mi ricordo mi ricordo che ti metti dentro al nostro spavolo e poi dici quanti piedi? e c'è chiedo l'area in spana una cazzo vabbè durante 4 colpi non ci muore lui mi ricordo l'area in spana una cazzo di cane si si ecco non ci muore no? non ci muore no? non ci muore no? a tutte le parti va bene uuuh ragazzi vedi questa pippa però non mi fai niente ok ho il coltello li dobbiamo accettare tutti uuh ci muore oh nooo beh sto star kill sta a fare l'over power ci vedo mi hai levato la kill io bello ero io quella che doveva ammazzare l'ultimo mi ha ucciso sei un bastardo t'ammazzerò no era terra fuoco che è l'ultima kill e lui la fa con la molotov ahahahahah che b***** kaboom bella partita comunque grandi vabbè raga io chiudo qui il video perchè abbiamo già troppo scredato un abbraccio da andrew a fuoco e ciao 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 ciao